E saluto a tutti ragazzi siamo di Game Trophy e oggi siamo qui su terra 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 Allora ragazzi è un gioco che abbiamo abbiamo sbranato Dove sei a parte che non ti... ah eccolo ti Oddio le schifo intanto non mi ricordo allora spera intanto spieghiamo spieghiamo un po' la situation intanto mi sto rincolionendo perché abbiamo praticamente è da quant'è che non giochiamo a terra Forse 6-7 mesi e io penso che sia quasi un anno sia più o meno quasi un anno quindi stiamo arrivando di scaricarlo perché effettivamente non ce ne avevamo neanche più proprio adesso sento Non c'erano neanche più il gioco non avevamo abbiamo scaricato abbiamo trovato i nostri Vecchi account super dopo si infatti abbiamo visto di fare un video così tanto per un Dungeon comunque hanno implementato altri livelli ho visto che hanno implementato se mi ricordo Il livello è il capo era il 64 o il 65 e poi da 65 credo che sia aumentato credo Ah giusto ma io c'avevo una skill che non mi ricordo come si è Io non mi ricordo che è casino non mi ricordo tipo... cioè devi saperlo usare alle skill Oddio com'era? Oh c'è già il boss si non mi ricordo tipo come concatenare bene le skill Oh si è questa skill guarda come mi soldo qua Vai guarda che sto spaccando tutto Ok Intanto questo PG qui diciamo che è un po' fuori da dormire Beh si effettivamente si ricordiamo che praticamente questo personaggio lo potevi prendere Lo potevi creare Se avevi un personaggio del 40 Esatto Cosa del genere Infatti noi Tipo personaggio eroico Si prima di fare questo abbiamo Abbiamo sempre Oddio sono rallentato Eravamo già infognati Si praticamente abbiamo un altro personaggio che Quanto è al 50 tipo Si 40 Io ho un elfo Ho un elfo arcella 50 Non è per noi Quindi la roll up La roll up La roll up Madonna le skill Che cazzo devo piacere Quello è il bello Che praticamente siamo entrati Che dopo parecchio tempo che non si gioca Ad avere il personaggio mega Mega skillato E la cosa bella è che con un colpo vanno giù Si mega skillato Infatti ho fatto Intanto ho fatto un match In casuale Ho preso la prima Che mi capirà davanti Quindi ci sta che sia di livello basso Non so Penso che lo trovo A livello giusto Adesso loro fanno il roll Dai Lo tolgo Lo tolgo Via E' quello Ah già ma noi abbiamo anche il cavallo E' vero Ma non lo sono dimenticato Come lo mettevo F1 Faccio sta roba io Io ce l'ho su F1 il cavallo Io non lo trovo Ma se sbaglio vuol il cavallo di fuoco Vabbè Ah no in quell'altro pg vuol il cavallo di fuoco Vai Guardami Uso 7 skill Il problema è che sto usando skill Ma non capisco veramente cosa sto facendo Cioè io vedo Colori Cos'è quello? Ah no Sono morto Aspetta che Come on Hai messo il cavallo Io ho messo il cavallo Ma fighissimo questo qui C'è il cavallo alato Oh sono diventato invisibile per un attimo Ma voglio anche il cavallo alato Ah ma qui sono mosche L'ha visti questi skill Oh no Pettacolo Ah c'è già il boss Ah il meddopato Io avevo se non sbaglio Un paio di skill che Che si rivivano Che ci fa quel boss Oh scema Sono quasi morto Madonna Ah mi sta curando Ma mamma Ma non scendo dal cavallo Ah ci ho detto che cure Ecco perché non careva mai la vita Aspettate disintegro Vai Ah giusto Questa era per schivare Però che tipo si compie Sto divertendo un casino Aspetta che Oh cacca Poi è il personaggio Più piccino Che dice Unsefan Che cazzo fa Di danno a questa Scoppia al mondo Poi è vero Le classi Quasi più fighe Diciamo Le singole Le danno quasi tutte All'Elin Perché per essere ninja Devi essere Per essere Questa classe Non mi ricordo Come si chiama Devi essere Elin Basta Perché poi Tutte quell'altro Tu puoi fare Qualsiasi cosa Qualsiasi personaggio Berserk Berserk Lanciere Qual'altro Puoi fare Tranne per il gunner Che devi essere O elfo Oppure Castano Ma non ho messo La classe Quella nuova Con tutti i personaggi Puoi usarla Tranne con l'Elin Mi sembra E giapa Tutto Ascia Non mi prende un cazzo Non riesco a troppare Ah perché Ok Un arco Non mi serve Questo mino No me lo scoppio Vai Oh L'ha fatto il contrattacco Ah la fumo lo disintegro A 13 ball Pessie Voglio Provo questa 1 2 E 3 Ma perché Non mi saltiva Quella skill Ora la clicco Ah E' ritorno a bellica Non andava Vedete Una skill Oh madonna Un po' di C'è con l'EF11 C'è la cura Anche Sì Io ho il volume Leggermente Un po' alto L'avevo abbassato Ma a quanto pare Niente Mi sa tanto Di Mortal Kombat Che quel 28 hit Doppia combo Oh 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 è andato Oh Oh Io ho compito Ok aspettate Che premo La game reward Ho preso anche La missione Fidstock La missione Quella di Vanguard Request Ho fatto Io Buono Buono Ok Inventario Che Inventario Inventario No io ce l'ho Qualche spazio Ce l'ho ancora Inventario No ma c'è anche I regalini Che ci hanno fatto Perché siamo tornati Dopo Infatti Infatti li voglio apri Dopo Dopo li apro Vediamo che Sono 6-7 mesi Che non vogliamo Questo gioco E' fatto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti